Salve a tutti i mici gobiani e noi gobiani, io sono Gobbo di teatre e dopo mesi, mesi di abbandoni, di rifiuti, mamma mia proprio elevati, ho ammazzonato un riccio che corre senza un coso davanti che le femmine manco lo potranno vedere, basta fare cose schifose, si continua Advance 2 finalmente, e quello come... Oh mamma mia, che meno male, meno male che... Ah mi hai portato sopra, meno male che non c'era la morte, nera, purtroppo questo pezzo è tutto bianco quindi... Razzismo, si, razzismo, che bello, razzismo, eh sorry, ok perché sta vado più lento, incredibile ma vero, ok, oh eh, questo c'è... Vabbè, l'ho preso quello di sotto, vabbè, eh, me lo ricordavo perché prima ho registrato e... Ma quanto sei scriptato, ma quanto sei scriptato, ma veramente quanto sei scriptato... Mi pare... Aspetta, vabbè, vado di qua, va... Eh, no, no, non è una calamita, per fortuna, vabbè... Tanto, abbiamo quasi finito il livello, penso... Yeah, che bello... Perché prima... Cioè, non ho... Cose... Cose brutte per me... Ho perso non so quante vite per... Dei pezzi, veramente... Vabbè, sarà più facile nell'ultimo... Nell'ultimo... Come possiamo chiamarlo? L'ultimo mo... Ehi, va, 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 va... Cioè, da, da... Da qua? Sì, da là... Ok... Forse abbiamo anche finito ora, mi pare... No, non ancora, manca poco però... Sì, abbiamo finito... Eh... Sì, però... Se non ti fermi, anche se io schiaccio... Già lato il telefono non funzionava neanche il taccio, veramente... Ok... Oddio... 3, 3, 3, 3... Oh my god, immaginate se era... Era tre volte 6, incredibile... 3, 3, 3... Non si posso credere, il numero... Del contrario del diavolo, oh my god... E' citato nella maniera incredibile... Ok, sto pezzo... Oh... Eccolo, eccolo là, hai ricominciato, eccolo là... Oh mamma mia... Vabbè, ho perso una, dai... Ho perso una, poi vabbè, per il boss... Il boss è... Mi pare... Più o meno una cavolata... Sia una cavolata sia no, perché... C'è una cosa... C'è una cosa che è un spara... Un raggio... A caso... Alimentato da niente... Da niente... Alimentato da niente, non lo so... Forse dalla forza... Della di... Vabbè, poi vedete che cosa sarà il boss... Che... Farà un... Incredibile... Ucciderà in un sol colpo... Cioè, se lo fosse già tanto così facile... Difficile sto gioco, veramente... Poi vedrete cosa... Poi vedrete al boss cosa succederà... Poi vedrete... No, ma... No, basta, ora faccio il save state... Vi prego, non voglio perdere altre vite importanti... Non voglio... Anche se il boss... Ah, vabbè, per il boss devo usare il save state... Ma, vabbè... Voglio finire con più vite possibile... A cavolo... Probabilmente finirò con più vite possibile... Visto che... Ne ho già... Non so... Quanto era... 70 e... Allora, non già 70... Ce l'ho fatta... Cioè... Incredibile... Incredibile, ma vero ce l'ho fatta... Opla... Aspetta, ma voglio vedere... Una cosa... Ste api di cacca... Eh... Sì... Doveva averne... Circa... 80 forse... Di vite... In Sonic 3 Nacos... Incredibile... Vabbè... Vabbè... Perché ho fatto il special stage... Ho ottenuto... Hyper... I Super Saiyan quarto livello... Super Saiyan... Blu... Non lo so... Non lo so che potenza arriva quel coso... Però... Però... All'infinito... Ma all'inizio addirittura... Cioè... Non c'è ma qui checkpoint... Cioè... Non ho beccato ma qui checkpoint... Addirittura... Ma... Ma non è possibile... Ecco che succede... A copiare... A copiare... A parlare di una cosa... Che è stata copiata... Veramente... Oh... Mamma mia senza manco subire danno da quell'ape di cacca... Ape non è che... Non è marrone... Per sua fortuna... Ah... Era così che si faceva... Il microdo... Ok era B... Ma vabbè... Uiiiiiii... Perdo anche sta medaglia che porta solamente punti... Perché... L'ho già detto nei primi video... Io... Non farò i special stage... Li mortacci vostra... Non li farò... Sono troppo difficili... No me ne fre- Mamma mia che culo... Oh... Il mio fondoschiena si è salvato... Ok... Mi rispetto e non farmi sentire la musica... Eh... Ah... Era qua la calamita... Mamma mia... La mia memoria... Quando mi incavolo... Veramente... Uiiiiii... E su... Dico ui... A caso... Perché... È bello quando si salta... È bello... Non ce n'era manco bisogno di fare sto sal... Sto salto che non so manco come si chiama... Ecco... Ecco perché... Ecco perché... Qua giusto sto di batteria 12%... Lo sto caricando mentre gioco... Per fortuna... C'è... Oh... Mamma mia... Stavo... Stavo per partire... Stavo per... Mamma mia... Martin Garrix... 30 euro in autostrada... Oh mamma mia... Il mio cervello... Oh ma... Eccolo... Eccolo la... Eccolo la... Stavo... Mamma mia... Proprio quando c'è l'esultanza... Ti arriva l'incazzatura... Che bello... Allora... Volete... Mmm... Non so... Sia allo stesso tempo... Godere... Non riesco a trovare un altro oggettivo... Sia allo stesso tempo... Incazzarvi come non so cosa... Questo gioco è perfetto... Che poi... Ah... Che vero... Questo pezzo... Mi ero bloccato prima... Perché continuavo a morire... C'è... Sono... Ero... Rimasto bloccato... Qua... C'è... Veramente... Che bella cosa... Ora c'è il boss... Che bello... Il boss... Che non è... Che è... Incredibile... Colpo di Sena... Junior... Che bello... Junior... Sei tu... Ah... Ok... La mano non si può... Non si... Non fa danno... No... Non è che fa danno... E che... Non... Non possiamo colpirlo... Ecco... Era quello che stavo parlando... Perché... No... Era la mano che sottava... È vero... Che quando vi fa... La sch... Ecco questo... Quando vi fa questo... Vi... Vi uccide... Vi uccide... Vi uccide... Non c'è... Non c'è storia... Non c'è storia... Vi triggerano in un modo assurdo... No... Oddio... Grazie con i ring... Grazie il gioco che mi ha salvato... Eh... Se riesco a distr... Sì... Sì... Ecco... Vi hai detto... Non si può subire... Non si può subire danno... Non si può subire danno... Il mio italiano è bellissimo... Issimo... Issimo... C'è... Ma... Ma... Manco ci arrivavo col... A prendere quella cosa... Che lo tiene... Perché non manco ci arrivavo... Ecco... Ve l'ho detto io... Eh... Ve l'ho detto io... Quello... Questo coso... Fa... Cose... Allora... Quante... Allora... Quante volte Eggman è gannato una cosa? Allora... Sonic 3... Sonic 3... Na... Allora no... Ricominciamo... Allora... È stato ingannato... Sonic 3... Sonic & Knuckles... Sonic Adventure... Sonic Adventure... Solo uno... Incredibile ma vero... Conta... Non contando... Sto contando solamente i videogiochi... Perché... Poi si conta anche... Forse... Underground... Forse... E... X... Che sono i cartoni... Gli anime... Vabbè no... Allora... Gli anime... Mi pare che... Solamente X... Mi pare... Allora... Le avventure di Sonic... Eh... Ma... Ma... Ma è scriptato... Guardate... Ma è scriptato... Sto continuando a morire... Pallo stesso motivo... Guardate... Sto continuando... Allora... Ripominciamo... Allora... Le avventure di Sonic... Satam... E... Underground... Penso che siano quelle... Americane... Non so come si chiamano... Non me lo ricordo... Invece... X... E... Anime... Anche perché la sigla è giapponese... La conoscono tutti... Quasi... Gli hanno pure dedicato un... Che possiamo dire... Un punto di fornimento... Quello là dove c'è... Attenzione... Eccolo qua... Ah... Non c'è bisogno che gli soggetti sto... Cannone... Cannone... C'è veramente... L'ho chiamato per distruggerlo... Ok... Dai... Dai... Gli hanno pure dedicato... Sapete... Allora... Tipo il McDonald's... Sapete il McDrive... Ecco... Tipo quella cosa... Dovrebbe essere... E poi c'è Boom... Che è... Francese... E... Come si chiamano i cartoni francesi... Non me lo ricordo... C'era scritto nella Wikipedia di Boom... Non è possibile... Dai... Vi prego... Che poi tra l'altro... Il Boom... Non me lo sto più guardando... Ok... Vabbè... Non importa... Non importa... Quando avrò tempo... Quando avrò tempo... Me lo riguardo... A che misura... Mi sono fermata... 62 forse... Sì... La prima stagione... È nel 52esimo... Sì... Sì... 52 episodi... La prima stagione... Ah... Ci sono due stagioni... Per il momento ci sono due stagioni... A 102 episodi... 104 lo devo dire... 104... Buona notizia per le ragazze... Sì... Buona notizia per le fan... Lei... Ho detto femminile... Non è detto apposta... Più o meno apposta... Ma... Chi è maschio... E fan di Sonic... Grazie a questo tempo... Sa... Che le ragazze... Come cavolo... Come... Come possì... Come ha fatto... A bloccarsi... A fermarsi... A caso... Gli ho fatto doppio danno... Incredibile... Ma vero... Incredibile... Ma vero... Gli ho fatto doppio danno... Ok... Ma non vedi fare proprio quello... Ma per favore... Ma io ho fatto il safe state... Ora... Perché... Ah già... Siamo parlato perché... Nacos era stato ingannato... Ecco perché... Siamo parlato di Boom... E di altri cartoni... Quindi... Non contando il carto... I cartoni... E che cazzo... Ci vuole stavolta... La parolacce... Stavolta ci vogliono... Ehm... Dunque... 3... E Nacos... E Nacos praticamente è un gioco... Non è fatto... Non l'ho detto apposta... E che cappero... Cappero... 11 minuti... Cioè... Auditarlo per facciare come video... Così ve lo faccio uscire subito il video... Così subito... Nel pomeriggio... Ve lo faccio uscire subito il video... Perché come a video... Praticamente... Cioè... Questo video che potrebbe durare... Più o meno 15 minuti... Quasi il limite dei video di YouTube... Se non... Se non avete... Accettato... Una cosa... Per impedire che il limite ci sia... Io l'ho fatto... Ci sono anche i video a disposizione... Cioè... Per esempio... Outlast... Cioè... Forse anche su Leder Man... Cioè forse... Cioè forse basta... Penso... Pochi video fatto con... Con la durata che superano i 15 minuti... Solo pochi... Ok ragazzi... Forse ce la faccio ora... Forse ce la faccio... Oh mamma mia che culo... Ah forse anche quelle cose gialle... Che poi... Che appaiono... Forse quelle là anche fanno male... Non me lo ricordo... Ok... Il cannone è stato fatto fuori... Non è un doppio senso... Non è un doppio senso... Non è quella cosa che fumano... Non è quello... Non intendevo quello... Non intendevo quello... Oh mamma mia... Quello di solito fa l'instant kill... Attenzione... Quello fa anche l'instant kill... Ok ok ok... Dai dai... Per favore... Dai dai... Voglio vedere poi anche la cazzine... Che cosa dice Knuckles... Perché non me lo ricordo... Oh mamma mia... Con Leaf Shield... Mi pare che sia un cammino così... Quello che c'è anche Sonic 3 Knuckles... Anche nel primo advance mi pare... Eh qua non ce la faccio... Vabbè accumulate i ring... Vabbè... Dai... 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 Dai che culo... Sì... Sì... E ancora... No non ce la faccio... Dai... Corri 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 corri... 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 Ancora... Quanto ci vuole... Ma dove ho quanti ring... Mi ha fatto perdere... Quanti ne avevo guadagnati... Vai... Oh... Ti prego... Non uccidermi ora... Ti prego... Ti prego... Oh mamma mia... Mamma mia... Altro che... Questo fa più paura di un... Fa più paura a questo che un horror... Veramente... Cioè... Oltre se non mi fa un cacchio di paura... Anche se nella terza parte... Mi fa spaventare per uno jumpscare... Oh mamma mia... Spoiler... Ma gli jumpscare... Non fanno paura... Fanno... Sì... 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 Fa... Sì... Sì... Non ti cacciare Knuckles... No... Io devo essere incavolato... Io... Io devo essere incavolato... Io... C'è cavolo... Sa che per... Non so che c'è una cosa sanissima... Che sono... Oh... La basso non so... Ti sei fatto... Da Eggman... La sa mi stare... Triggered... E perché la sa mi stare... Vabbè... Ci vediamo Knuckles... Ehi... E che poi... La cosa bella è questo... Ah no... Non interrompevo così... Non permetterò che... Ma se la cavi così... Allora... Perché durante la storia... Tails non c'è... E Knuckles non c'è... Perché loro due non ci sono... Perché... E il prossimo attore... Devo fare proprio l'ultima parte... Ma perché... Altre due parti ancora in questo gioco... Perché... Che brutta cosa... 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 Che brutta cosa...